Amici miei bentornati ancora una volta qui online, come state fatelo sapere qui sotto nei commenti Oggi torniamo in una serie che manca da un bel po' qui su questo canale L'ultimo episodio risale a circa un anno fa, l'ultimo episodio serio E che si concentrava in linea generale su Genshin Impact, un gioco a cui gioco ancora oggi Ed è fighissimo, se non l'avete provato provatelo Ma comunque detto questo, perché torniamo? Beh perché ho trovato un altro gioco figo, che mi sta piacendo e che mi ha preso E che devo condividere con voi in un modo o nell'altro E visto che su Instagram e Telegram eravate molto curiosi, ho detto vabbè facciamoci un bel video Quindi detto questo, subito iniziamo, iniziamo subito, in realtà non subito sia, vabbè E quindi entriamo subito nel gioco Allora, attiviamo la gestione di schermo perché io ho installato il gioco su iPad Ma ovviamente disponibile sia per Android che per iOS Per iOS potete scaricarlo direttamente dall'App Store Per quanto riguarda invece Android dovete fare un po' di magheggi Vi lascerò comunque tutti i link in descrizione Sappiate che è gratuito e comunque è abbastanza, diciamo, sicuro per quanto riguarda il download Detto questo, andiamo subito al gioco Ok, e come si chiama? Beh si chiama T3 Arena E già vedo che molti l'hanno sgamato un attimino da Instagram E vedo già che vi sta piacendo tanto Magari ci possiamo fare anche qui una bella partitina Poi ne parliamo sempre su Instagram Detto questo, eccoci qui, questa è la schermata iniziale E da qui già vediamo un bel po' di cose secondo me Uno, la grafica, veramente molto molto figa Mi piace veramente tanto Questo stile un po' anime Se così possiamo dire, mi piace E me lo ricorda un pochettino Quindi mi piace sotto questo punto di vista E poi abbiamo un po' di cose a cui possiamo accedere Per capire un po' meglio il gioco Partiamo subito dal fatto che qui In alto a destra avete le impostazioni E un po' di cose in generale Nell'inbox voi all'inizio trovate un po' di pacchi da aprire Apriteli così potete potenziare un po' i vostri personaggi Eccetera eccetera, ma comunque andiamo in option Vi faccio vedere che il lato grafico Ho messo tutto così su iPad iPad Pro ovviamente 2018 Mentre da questa parte Per quanto riguarda i controlli Ho lasciato tutto abbastanza standard Tranne che per, scusatemi Qui ovviamente potete gestire un po' il tutto Ma io giocherò con il controller Perché potete farlo Anche se qui non vi fa gestire il tutto E secondo me manca un pochettino Ma comunque vedete che qui Ho messo tutto in off Ma ovviamente potete gestire tutto come volete Detto questo usciamo da qui E andiamo negli Heroes Come vedete qui ho sbloccato appena un nuovo personaggio Ovviamente non so per niente quello che fa Qui vedete un po' di skin Vedete che sono anche molto molto ben curate Mi stanno piacendo veramente tanto un po' tutti questi dettagli Che continuo a vedere un po' all'interno del gioco E poi qui vedete tutti quelli che attualmente ho sbloccato Questa qui Cristina ragazzi è una bomba Veramente fortissima E poi abbiamo anche altri personaggi molto interessanti E ovviamente ogni personaggio Ogni Heroes Ha il suo diciamo La sua abilità E la sua ulti Se possiamo dire Ma in gioco vi farò capire E oggi per farvi capire un po' il tutto Per gestirmela un po' meglio Mi prendo quello con lo scudo Perché posso gestire un po' il tutto Nel migliore dei modi Qui in Collection Vedete un po' di cose che Potete collezionare eccetera eccetera Per il momento non mi sembra Per niente pay to win Quindi ottimo sotto questo punto di vista In basso qui avete poi le missioni Oggi ho pure due missioni con questo qui Quindi ottimo Da questa parte poi ce ne sono delle altre Qua io voglio andare Perché non mi... Questi sono i Task Reward Eccolo qui Vedete che c'è appunto il Pass Premium Da questa parte Però sinceramente va più che bene così Adesso entriamo nel gioco Nel mentre ci sblocchiamo tutti gli stage nuovi Vabbè partito dopo vi faccio vedere le modalità Ormai è andata così Questa è la serie Questo è un po' il bello del gioco Vi faccio vedere subito entrando in game Che vi mette comunque 3 bisis 3 Questa è una delle mappe Poi cambiano ogni totto Se non sbaglio dovevano anche essere cambiate Ma va bene Vedete che io posso gestire tutto da questa parte E da questa parte vedete già la prima specialità O meglio quella possibilità di inserire O comunque di utilizzare uno scudo Ma adesso andiamo subito all'arribaggio E andiamo un po' contro questi ragazzini Che vi faccio vedere un pochettino il tutto Allora devo dire che sembra molto semplice come gioco Ma in realtà dovete prenderci un po' la mano Con le abilità Con le cose Perché per quanto possa sembrare un attimino Semplice giocare eccetera eccetera E per quanto comunque sia vera la cosa del Diciamo un po' sgravati alcuni personaggi Comunque dovete essere abbastanza reattivi A prendere determinate decisioni E dovete riuscire a capire nel migliore dei modi E poi quelle che sono le specialità Comunque ci siamo già portati a casa due kill Che è un grandissimo record per me Che mentre registro non riesco a farne una Mai bene E quindi top number one sotto questo punto di vista Come avete visto questo qui ha Diciamo come specialità lo scudo Quindi è un gioco che andrebbe giocato un attimino meglio in squadra Quindi per questo vi dico che ci possiamo fare anche qualche partitina E quindi nulla Poi ovviamente come vi dicevo Ognuno ha le sue specialità E potete gestire un po' il tutto Nel migliore dei modi In base a quello che preferite Io li ho provati un pochettino tutti In linea generale Mamma mia Sono una bella Sì ci sono giocanti talmente tanto In questi giorni Che sono abbastanza skillato Ho capito un pochettino il tutto E per questo mi sono messo questo qui Perché è veramente semplicissimo da giocare E secondo me va un po' anche limata la situation Adesso usiamo l'ulti e ce li portiamo a casa tutti e due Vedete che fegata E quindi molto bene sotto questo punto di vista L'ho detto già cento volte Lo so ma quando gioco io non riesco ad allacciare Più cose contemporaneamente Vieni qui che ti spacco proprio la faccia Come vedete la grafica è molto piacevole secondo me Mi piace veramente tanto Come anche le diciamo degli effetti un pochettino Mi piace veramente tanto E quindi ottimo anche qui Molto bello anche lo studio Se possiamo dire dell'audio Ci sono degli effetti che comunque mi piacciono Mi sono piaciuti veramente tanto E in linea generale devo dire che Per il momento le mappe che sono riuscito a provare Testare Sono molto ben fatte Molto interessanti E aggiungono quel pizzico Ecco che adesso mi è preso da là Mi piacevo fare di qua Hanno quel pizzico di dinamicità Che male assolutamente non fa Ma quanto so forte ragazzi Sto facendo tutto quanto io E quindi sì ci sta Allora prendiamoci pure a questo Che l'è là Ma comunque alcuni sono un po' così Sono un po' così Sono salito un po' di livello E vedo che alcuni sono un po' Diciamo non proprio super attenti A come si utilizzano i vari I vari heroes E poi vedete lui spara 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 Magari mi rompe anche lo scudo Ma appena lui va in ricarica Io poi me lo mangio Ci sono come vi dicevo prima Alcuni personaggi che vanno un attimino limati O comunque depotenziati se possiamo dire Perché sono un po' troppo forti Per esempio questo qui con lo scudo È un po' troppo diciamo sgravato Sotto certi punti di vista Mentre Ce ne sta un altro Che proprio ragazzi Mi diventa quasi immortale Che sarebbe in poche parole Quello che si concentra Principalmente sulle cure Ecco il medico diciamo Il medico di gioco Che non solo cura gli altri Ma cura anche voi E praticamente vi diventa Quasi impossibile morire Questo per esempio Ha un raggio un attimino D'azione ridotto rispetto ad altri E ci sono poi anche altre classi O comunque altri heroes Che vi permettono di giocare dalla distanza Come questo qui Che ho appena massacrato Mamma mia che potenza Quindi vanno un attimino bilanciate Vanno un attimino bilanciate Secondo me le cose Perché appunto ci sono alcuni Che sono un po' Un po' troppo Un po' troppo forti Per esempio ce ne sta un'altra Tipo con le bombe Che ho utilizzato tantissimo Soprattutto all'inizio Che veramente ragazzi Fa malissimo Ed è veramente difficile da gestire Guardate qua ma Il vostro gioco va combinato Cioè proprio Perfezionismo Proprio Robbe fatte bene Andiamo in continua Vedete questa è un po' L'animazione di gioco Vedete comunque è bello curato Mi piace proprio questa Questa cura dei dettagli Da questa parte Vedete un po' di cose Qui vedi play match Diciamo con lui Ne devo fare altri 4 Vabbè oggi Vabbè queste sono missioni giornaliere Poi ci sono delle classifiche Ci sono diverse cose Adesso ho sbloccato Qualcosina da questa parte Che ci andiamo ad aprire Vi faccio vedere uno spacchettamento E Ebbene Eccoci qui Abbiamo sbloccato pure un personaggio Così a caso Mi avete portato fortuna Bene Da questa parte quindi Ho degli altri heroes Allora per il momento Io non ho sbloccati Come vedete 8 Ma ce ne sono altri Ce ne sono altri 8 9 10 11 Che ovviamente vanno sbloccati E vanno capiti Per esempio Questa qui mi sembra Questa qui mi sembra Molto molto interessante Ma mi sembra anche interessante Questa qui con le frecce Vediamo un po' Vi faccio vedere un po' Di animazioni Questa qui Vedete che sono comunque Belli curati Vedete queste animazioni Mi piacciono veramente tanto Ed è un gioco che io ci vedrei O comunque vedrei Con tanto piacere Anche su Su Come si chiama? Su PC Eccetera eccetera Mi piacerebbe anche magari su Mac Perché comunque è fattibile Non è un giochino Super super pesante E vi dico anche Che non è neanche pesante Lato spazio Di Che va poi ad occupare Ecco perché in un certo senso Dovrebbe pesare In un certo senso Andrebbe a pesare Circa Un gigo e qualcosa Quindi ci può stare E ovviamente L'ho provato anche su Diversi dispositivi L'ho provato qui L'ho provato sull'iPhone 13 Pro E sul 13 mini Sul 12 Pro Max E girano bene Devo provarlo Sono sincero Su Android Ma volevo realizzare il video Quindi vi farò sapere Però da quello che ho visto Da quello che mi avete detto su Instagram Funziona che Alla meraviglia Quindi provatelo Assolutamente Il titolo ottimo Veramente super interessante E mi piace Proprio perché Su smartphone Iniziano ad arrivare Delle cose Molto molto fighe Abbiamo visto Lino Kuni Abbiamo visto Shadow Hunter Abbiamo visto Genshin Impact Questo qui secondo me Ha del potenziale E passatemi un po' la cosa Mi ricorda un pochettino Overwatch E non è male come cosa Mi piace Poi fatemi sapere cosa ne pensate Secondo me va provato Detto questo E nulla Vi lascio come sempre Ai commenti Ai mi piace Per supportare questa serie E mi raccomando Ai commenti Poi fatemi sapere Se lo provate Cosa ne pensate Detto questo Un bacio e un abbraccio Da giù È tutto Ciao a tutti Vi voglio bene Fatemi sapere Seguitemi su Instagram Magari ci facciamo la partita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti